salve amici e amiche oggi apriamo con l'assemblea federale della federazione russa la duma che è un ramo del parlamento per intenderci dato che nell'ultimo video qualcuno mi ha contestato di non dare abbastanza voce anche alle versioni russe di questa guerra quindi ecco cosa hanno detto ieri a proposito dei carcerati e criminali inviati al fronte c'è questo deputato che chiede a una dei referenti cara irina alexandrova la prima domanda per te come si collega questo al principio di inevitabilità della punizione stiamo infatti creando creato e continuiamo a creare un modo legale per sfuggire alle responsabilità dei loro crimini alcune persone lo stanno già facendo stanno usando questo a proprio vantaggio commettono un crimine firmano il contratto di ruolamento e così sfuggono alla responsabilità penale la seconda domanda la rivolgo ad andrei valerievich perché stiamo trasformando il nostro esercito in una specie di banda di mafiosi fatta di criminali con precedenti penali e così via il principio di reclutamento del nostro esercito dovrebbe essere il dovere civile un servizio onorevole e così via e oggi invece stiamo costruendo le nostre forze armate reclutando i reietti della società a questo punto risponde irina alexandrova alessandrova membro della duma che dice grazie della domanda ma non sono interessata a parlare di quelli che si approfittano del cavillo legale per commettere un crimine e poi arruolarsi perché dovrei farlo comunque lo abbiamo già detto se qualcuno non vuole scontare la pena in carcere può andare in guerra a quel punto il procedimento penale si interrompe in caso di onoreficenza gravi lesioni morte o fine della operazione militare speciale penso che questa risposta sia sufficiente dice quindi cari amici una cosa che mi domando sempre almeno che non faccio a meno non riesco a fare a meno di pensare è come ci si possa sentire nei panni di un russo che guarda la televisione e sente parlare le persone in questo modo viceversa cosa penserebbe un italiano se sapesse che il nostro esercito viene composto dai peggiori criminali che abbiamo nelle nostre carceri ovviamente quelli che hanno commesso i reati peggiori per intenderci perché no chi è che si arruola per rischiare la morte se ha fatto un reato minore e proviamo a immaginare non lo so un omicida o uno che ha fatto le cose peggiori del mondo come può essere allettante la prospettiva di essere libero per fare che ne so qualche ammazzatina e magari poi tornare in patria non solo lindo e pulito ma anche con una bella decorazione quindi fatemi sapere e voglio sapere anche le opinioni dei filorussi perché da ieri hanno ripreso a invadere il mio canale quindi ditemi secondo voi la russia è una nazione così grande è un esempio da seguire certo uno direbbe no anche in italia questo risolverebbe il problema di sovraffollamento delle carceri che ne so qualcuno dovrebbe proporre la cosa in parlamento gente così ce l'abbiamo con queste idee che ne so magari ecco mi viene in mente che forse potremo sfruttare i carcerati per cercare di conquistare qualcosa boh mi viene in mente l'albania la somalia sono i deuce oddio potremmo cercare di invadere la russia che dite ora non prendetemi la lettera sono sarcastico però pensiamoci un attimo perché in queste immagini che vi mostro queste sono le nostre forze armate sono un'eccellenza ora provate a immaginare 100.000 di loro tutti con processi penali a carico i peggiori sfilare davanti all'altare della patria magnifico ma come sono grandi questi russi queste cose non le vedevamo tipo da 2000 anni credo comunque dai andiamo avanti questo è quello che succede quando mandi questa gente a invadere un altro paese questo esercito fatto di personcine che cercano una redenzione e poi fanno queste cose gli effetti infatti ve li mostro si vedono proprio dallo spazio tutta quella mezzaluna più scura sono gli effetti di questa guerra campi crivellati dall'artiglieria le mine gli incendi tutte quelle belle cose che la russia ha portato con l'idea di liberare l'ucraina liberarla da i nazisti del ventunesimo secolo sono proprio dei grandi liberatori si vede anche dallo spazio comunque quest'area si estende per oltre 900 chilometri per lato è grande come mezza italia almeno se questo non rende l'idea delle proporzioni della distruzione commessa dai russi provate a scrivere ancora nei commenti forza russia e che l'ucraina deve essere distrutta poi però non lamentatevi se il vostro account viene sottoposto ad accurati controlli per incitamento all'odio è incredibile poi come certi filorussi si professino pacifisti supportando la russia ma certo come come si può negare che putin non sia una brava persona no ama i suoi cani aiuta le vecchiette da attraverso attraversare la strada come un altro personaggio anche lui amava i cani il baffetto della seconda guerra mondiale uguale a proposito poi per restare sul tema di vecchietti e per restare sempre sulle fonti russe sulle loro brillanti operazioni militari ieri l'aviazione russa ha bombardato una casa di riposo a sumi vicino alla regione di kursk non vi posso mostrare le immagini ma ecco non credo neanche che serva e non serva neanche commentarlo più di tanto in ogni caso in questi giorni l'aviazione russa ha avuto una reazione rabbiosa nella regione di kursk specialmente da questa mappa possiamo vedere solo alcuni report dei loro bombardamenti negli ultimi tre giorni con le bombe plananti per lo più città e villaggi russi sono stati presi di mira dall'aviazione russa che a questo punto ormai è chiaro che non si fa scrupoli a colpire il proprio territorio secondo questo articolo di mask 24 la russia ha concentrato 37.000 soldati nella regione di kursk le truppe russe sono state incaricate di cacciare le forze ucraine dall'intera regione fra il 15 e il 30 ottobre e di creare una zona cuscinetto sul territorio delle regioni di confine vicino alla russia le notizie che arrivano dalla regione di kursk comunque come ho anticipato negli ultimi video sono piuttosto provvisorie si parla di una situazione in rapido cambiamento con una certa mobilità nelle iniziative ucraine che stanno utilizzando per lo più tattiche di guerriglia mentre le fonti russe parlano di una avianza avanzata schiacciante partita da corenovo e diretta verso sud e sud est apro una piccola parentesi fra l'altro le forze ucraine non sono mai entrate completamente a corenovo nel mese scorso i combattimenti infatti si sono svolti a est di questa città e comunque oggi circola un video di saccheggi operati dai cittadini e dai soldati russi nei negozi di questa città che bisogna dirlo è presidiata da truppe russe per intenderci chiusa parentesi come dicevo l'iniziativa di riconquista russa mira a spingersi verso est ma i combattimenti e i report da giorni parlano di enormi perdite di uomini e mezzi in questo tentativo gli ucraini in sostanza li stavano aspettando e questo voglio dire è piuttosto palese che ci sarebbe stato un tentativo da parte russa nel frattempo l'avanzata ucraina continua a occupare villaggi qui e qui per esempio la cittadina di gluskovo viene come viene riportata da igors susco viene detto che le forze russe sono state circondate in un'area di 260 chilometri quadrati e che il fiume seim sta di fatto rallentando e impedendo la ritirata di questi così come l'arrivo di rinforzi da parte russa in questo video fra l'altro apparso sempre su x un soldato russo si sfoga dicendo che le nostre forze sono limitate e abbiamo urgente bisogno di un aiuto su larga scala ottimo una scelta di parole interessanti che dire chi è che diceva le stesse cose due anni e mezzo fa fatemi ricordare comunque ci sono anche storie surreali in tutto questo che ricordano certe storie del pacifico della seconda guerra mondiale qualcuno coglierà il collegamento come questa storia di questo soldato russo andrei alimov 22 anni è stato mandato a presidiare da solo un isolotto sul fiume dnipro per tre mesi con solo delle razioni di cibo secco è andato avanti mangiando rane radici e bevendo l'acqua del fiume finché non si è arreso scrivendo un cartello appena visto un drone ucraino passiamo invece alla propaganda ucraina come qualche brillante analista da bar la chiamata nei commenti al mio video di ieri continuano le azioni di sabotaggio in tutta la russia da parte degli agenti ucraini infiltrati questa notte un grande magazzino di stoccaggio a 20 chilometri da mosca ha preso misteriosamente fuoco notizia di ieri e fra l'altro aggiornata anche oggi a mezzogiorno un altro attacco dronico ucraino ha colpito un deposito di munizioni a sud di voronez attendiamo notizie migliori tra l'altro erano già stati segnalati degli incendi in quest'area ieri arrivano poi aggiornamenti dal deposito di munizioni colpito due giorni fa a toropez queste immagini ci mostrano il prima e il dopo ora la scala di distruzione che si vede per un'area che è di più di 20 chilometri quadrati ci dà un'idea di come sia stato possibile che i botti hanno fatto vibrare il terreno per una forza pari a un terremoto di tre gradi della scala ritter o giù di lì poi la vedete questa macchiolina più scura qui bene quello è un cratere largo 100 metri ed è interessante notare che è proprio in quest'area quindi probabilmente era una collinetta usata per interrare una grossa quantità di materiale esplosivo queste immagini termiche mostrano il numero di incendi sviluppati in tutta l'area nella maggior parte dei depositi quindi che dire sono stati fantastici alcuni commenti di filorussi che piuttosto che ammettere la realtà hanno detto che che vuoi che sia tanto erano tutte armi scadute ma certo ora per quanto nel complesso possano esserci di fatto state aree deputate allo smaltimento di vecchi ordigni non stiamo parlando di generi alimentari le armi vengono smaltite riconvertite si vengono estratti i materiali gli stessi materiali poi da cui se ne ricavano di nuove e adesso lo so fate attenzione a quello che ho appena detto nel senso che so che nei miei iscritti ci sono persone con grandi competenze e che mi verranno a cercare sotto casa per quello che ho appena detto ma insomma sto semplificando dicendo che in complessi militari come questi in genere si riconvertiscono smaltiscono si riciclano gli ordigni quindi è un processo molto complesso non servono solo come depositi di vecchie armi tanto che in questo deposito come ho detto anche nei due video precedenti erano stoccati i più moderni missili russi il propellente per questi missili non solo anche missili per la difesa dello spazio aereo come s 300 s 400 e missili terra a terra come gli iskander il deposito di toropec è un deposito storico uno dei più grandi in russia che è stato poi modernizzato dal 2015 e per la sua posizione così vicina all'europa è facile immaginare il suo ruolo strategico per l'arsenale russo quindi è per questo che il parere di tutta la comunità internazionale a dispetto di qualche disperato che continua a sostenere i putin e il suo regime l'opinione è che l'ucraina ha portato a segno un successo strepitoso con questo attacco andiamo avanti con due notizie di tecnologia militare in questi giorni gli ucraini oltre ai soliti droni aerei e qualche quadrupede motorizzato hanno usato anche questo drone con ruote con quattro ruote sembra proprio questo fra l'altro che stavano testando da mesi nel video che vi passo in descrizione si vede questo drone condurre un attacco passando tranquillamente sopra delle mine su una strada e poi sparare a delle postazioni russe utilizzando sia la mitragliatrice che un lancio a granate molto interessante per restare poi sempre nell'ambito della tecnologia e dei test gli stati uniti hanno avviato i voli di prova e di valutazione per il nuovo bombardiere stealth strategico b21 rider sviluppato dalla northrop grumman sarà l'evoluzione del b2 spirit tanto che appunto come è solito quando si prende un aereo e lo si fa evolvere nel classico stile americano cambia il nome ma di poco quindi b2 b21 b2 b21 sarebbe ora nonostante la formula e la forma sembrino piuttosto simili il b21 in realtà è un bel po più piccolo compatto e si presenta con soluzioni atte a ridurre ancora di più la propria firma radar ma si notano anche importanti modifiche anche per limitare l'esposizione nella luce ottica e infrarossa è tipico per esempio vedere la deviazione a queste serpentine le prese d'aria non dritte quindi a forme a forme non lineari questo perché in questo modo si impedisce che un aereo possa vederlo frontalmente attraverso i suoi motori dalle prese d'aria è facile poi anche ipotizzare anche un'evoluzione dei materiali di cui è fatto con l'utilizzo massiccio di materiali compositi che sono di questi ultimi cinque anni prerogativa di questi ultimi cinque massimo dieci anni nonché la capacità di trasportare si ipotizza i missili ipersonici maco sviluppati dalla lockheed compatibili fra l'altro anche con le f 35 missili cruis e altri armamenti più tecnologici di precisione questa evoluzione nelle forme per questo bombardiere biposto va riportata all'interno di un progetto più ampio il programma è in giro di americano che mira a modernizzare tutta la flotta per la quinta generazione di aerei da combattimento del futuro con una massiccia introduzione e sviluppo di tecnologie stealth e oltre a questo poi si parla molto di droni da combattimento da affiancare alla flotta di circa 2500 f 35 che diventeranno la spina dorsale dell'aviazione degli stati uniti in futuro e che andranno a sostituire tutta una serie di aerei che hanno in questo momento come f15 f18 f16 a 10 eccetera eccetera quindi pochi aerei in grado di fare tutto affiancati da tanti droni non pilotati a perdere e questo è quindi siamo quasi in chiusura come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto anche a questo video qui sotto trovate tutte le funzioni di youtube per attivare campanelle e sostenermi per concludere quindi dato che all'inizio del video ho dato tanto spazio alla propaganda e alla televisione russa chiudo invece con quella ucraina con questo bel video celebrativo il comandante della dodicesima brigata delle forze speciali azov il colonnello denis prokopenko ha onorato i combattenti del secondo battaglione durante la cerimonia di premiazione i militari azov hanno ricevuto gli ordini per il coraggio per la forza d'animo e premi dipartimentali del ministro degli affari interni i premi presidenziali per la difesa dell'ucraina e i gradi di ufficiale primario il comandante ha anche consegnato ai militari il nuovo distintivo dell'unità che raffigura le insegne del principe sviatoslav con questo simbolo i combattenti azov continueranno il loro viaggio di combattimento durante i mesi della campagna di creminna il secondo battaglione ha dimostrato di essere una famiglia di professionisti ha respinto gli attacchi nemici ha fatto degli assalti con successo incursione contraattacchi i combattenti hanno svolto la loro missione di combattimento con dignità e applicheranno la loro esperienza nelle campagne future vi consiglio di alzare il volume e vi lascio alle immagini un abbraccio alla prossima io spero diacuio a ogni soldato sergente ufficiero per il coraggio per il coraggio di fare il obiettivo che si è stato in base alla brigada si è stato in base a penetrati nessuna posizione, si è stato in base a contattacchi, si è stato in base a fare le operazioni di rastoppi e si è stato in base a fare sovi ascoli a professori oggi avremmo chevron nostro battaglio nostro battaglio chevron chevron Un'altra cosa è un'altra cosa, è un'altra cosa. Buona Luzera! Buona Luzera!